Una moneta con Cristo crocifisso, un nome accanto, Dionysos, un grande e straordinario mosaico a Istanbul, nella cattedrale di Santa Sofia, con l'immagine del buon pastore e l'iscrizione Orfeus. Che cosa lega Orfeo, Dionysos e Cristo? Orfeo, Dionysos, Cristo. Cosa è accaduto? Qual è stata l'origine di questo mistero? Ogni mistero si genera per essere disvelato. E la poesia è quel velo delle grazie che coprendo la verità, in virtù della sua trasparenza, la svela, la parola, si affaccia nell'abisso del nulla, ma nello stesso tempo, nella luce dell'essere. Niente altro è la poesia che costruzione della storia. Senza la poesia non accadrebbero le mutazioni storiche che ci toccano da vicino. Orfeo, Dionysos, Cristo. Cominciamo dal primo. Cominciamo da Orfeo. Orfeo è sempre stato il nome proprio della poesia. Nasce Orfeo nel silenzio della dimensione antica. Nasce a Creta. Nasce come il poeta solitario. Come il poeta Agamos. Senza Euridice. È il poeta del mondo olimpico, il poeta della serenità e della luce, il poeta dove si rispecchia la perfezione di un Dio che non tocca mai l'umano. L'antico Orfeo continua a cantare e la musica è Sofia. La sua musichè è l'immagine di un mondo felice e sereno. Ma noi non conosciamo Orfeo per questa sua identità. Noi conosciamo Orfeo accanto a Euridice, nella sua identità di incapace amante. Conosciamo Orfeo come colui che ha perduto tutto perdendo Euridice. Ed è questo che racconteremo in questa prima parte, cominciando dal nono dei sonetti di Orfeo, di Rilke. Quando Rilke definisce il senso della poesia. Sol chi levò la cetra, dice Rilke, nel regno delle ombre, può presagir nel cuore un infinito canto. Sol chi mangiò coi morti il fiore del papavero, governerà in eterno ogni più lieve suono. Solo tra morte e vita si fa ciascuna voce, dolcezza, imperitura. Rilke intuisce perfettamente la stranezza di un mito che cambia. Perché il mito di Orfeo non è una creazione della mitologia antica. La mitologia antica conosce solo un Orfeo senza compagna. Noi viviamo e abbiamo vissuto per tanto tempo con la sensazione che il mito di Orfeo ed Euridice sia stato inventato da Virgilio nelle georgiche. Perché nelle georgiche, per la prima volta, in modo diffuso, è raccontato il tradimento di Orfeo e il suo voltarsi indietro perdendo Euridice. Così Virgilio parla e canta nelle georgiche. Improvvisa follia colse l'amante, degno di perdono, ma gli dèi non sanno perdonare. Lo seguiva Euridice. Lui si fermò in memore sulla soia della luce e lo vinse l'amore per l'amata e si volse a guardare la sua sposa. Infranti i patti, tutto poi fu inutile e un fragore di tuono per tre volte scosse l'averno. Chi mi ha perduto, Orfeo, m'è sventurata? Quale grande follia ora mi perde? Mi richiamano indietro, ora e per sempre. Mi chiude il sonno, gli occhi vacillanti, ora addio. Una notte infinita sento, che mi avvolge, Mentre le deboli mani a te, ora tendo, Hai non più tua, mai più, mai più io, tua. Per lungo tempo si è creduto che il padre della variante Euridice fosse Virgilio, ma nei primi anni del Novecento gli studi di alcuni grandi filologi sconfessano questa ipotesi. Un ignoto studioso di Parigi, Jacques Hergon, pubblica un articolo intitolato Orfeo e Euridice avant Virgil. Per la prima volta si pone un problema che farà luce nel mistero del mito di Orfeo. Scopriranno poco a poco che esistevano due versioni, due versioni che contemporaneamente circolavano ad Atene. Una prima versione nella quale Euridice tornava libera dall'Ade. Una seconda versione nella quale Euridice invece era perduta per sempre per l'incapacità di Orfeo di resistere. Come è accaduto tutto questo? Chi ha inventato la variante Euridice nel mito di Orfeo? Tutto accadde nel VII secolo, durante il periodo chiamato della Tirannide di Pisistrato. Furono quarant'anni di regno che cambiarono le sorti della Grecia e definirono nuovi principi anche per il destino del mondo occidentale. Uno dei grandi sapienti della Grecia in quel periodo, Onomacrito, scrisse quelli che oggi conosciamo come inni orfici, inventò cioè una vera e propria nuova teologia che fu chiamata in seguito Orfismo. La straordinaria intelligenza di Onomacrito che scrisse i nuovi miti di un nuovo Dio portarono alla definizione di un vero nuovo mondo teologico che aveva come luogo di elezione Eleusi. La Tirannide di Pisistrato non fu una tirannide, fu il momento nel quale fu concepita l'idea di democrazia, fu il momento dell'estrema totale liberazione dalla aristocrazia che amava il mondo olimpico. E la prima cosa che Onomacrito concepì fu un nuovo poeta. Un poeta che pur nato a Creta diventava ad Eleusi il poeta della grande umanità nascente, dell'anima il poeta del mistero. e con sé portò in dote nella sua geniale scrittura degli inni orfici il nuovo Dio il Teos Neos Dioniusos il Dio Dioniso definito negli scritti Soter Salvatore che aveva salvato gli uomini risorgendo dalla morte. L'invenzione di Dioniso nuovo Dio produce grazie a Onomacrito la fondazione di una nuova classe di sacerdoti. evidentemente in Eleusi formati e operanti che costruirono nel nome del Dio Dioniso quei misteri Eleusini nei quali si ritrovavano perfettamente tutte le novità di un universo che stava per nascere e che avrebbe influenzato il divenire di tutta la cultura greca. Era necessario perché fossero credibili i misteri che qualcuno scendesse in ave. Era necessario mutare il destino di Orfeo e dunque era necessario inventando Euridice che Euridice morisse perché potesse poi Orfeo ricondurla alla vita ma perdendola perché non interessava più alla nuova teologia orfica che Euridice vivesse era molto più importante che il poeta scendesse negli inferi e ritornasse in vita grazie alla potenza del canto e alla potenza della sua parola. Questo accadde. Accadde che il poietes produsse un nuovo mondo nel nome di un poeta Orfeo che è il poeta di tutti i miti di Dioniso ma dietro tutto questo c'era la classe dei sacerdoti di Eleusi dietro tutto questo dietro la mutazione del mito dietro l'assunzione dell'umano in Euridice c'era il desiderio di costruire qualcosa che desse agli uomini la certezza di un al di là la certezza di qualcosa che somigliasse molto a una salvezza e a un premio. Così accadde l'invenzione della catabasi c'è della discesa in Ate così accadde che Dioniso divenisse il dio dei misteri Eleusini così accadde che la nuova democrazia fondata da Pisistrato sospendesse quell'antica aristocrazia che ad Atene aveva prodotto l'Olimpo e i suoi dèi ma ora è opportuno indicare le due versioni del mito di Orfeo per comprendere il senso di tutta questa storia che nei misteri finisce ma nel grande mistero di miti che si intrecciano comincia nella mitologia greca è un caso unico versioni differenti su un mito medesimo la prima versione che vede Orfeo libero e felice con Euridice ci viene da Euripide il quale nell'Alcesti afferma se io avessi la parola e il canto di Orfeo da poter incantare col canto la figlia di Demetra il suo sposo e potessi strapparti dall'Ade non il cane di Plutone non Caronte che guida col remo le anime mi tratterrebbero finché non avessi portato la tua vita alla luce è evidente la catabasi felice nella citazione di Euripide nel quarto secolo una testimonianza di Isocrate nel Busiris parla di Orfeo che dall'Ade riconduceva a nuova vita i morti e un'altra citazione del terzo secolo di Ermesianate di Colofone afferma che il diletto figlio di Eagro munito di cetra la condusse via dall'Ade col canto persuadendo i potenti sovrani perché restituissero a Euridice il soffio della vita dolce e in questa citazione ancor più evidente quel soffio della vita che ritorna in Euridice rediviva e più tardi nell'epitapio Bionos di Mosco è ancor chiaro tutto questo dice Mosco non senza dono resterà il canto e come già un tempo ad Orfeo che dolcemente cantava sulla cetra fu concesso che Euridice viva ritornasse alla luce allo stesso modo il tuo canto o Bione ti restituirà alle care montagne quattro citazioni nel grande mare delle opere e anche delle testimonianze pittoriche sul vaso Sant'Angelo soprattutto dove è definito per sempre il sorriso di Persephone che tenendo per mano Euridice la consegna a un felice Orfeo la seconda versione del mito consta di poche citazioni una è di Conone che nelle Narraziones frammento 45 così dice si è diffusa l'opinione che per amore della sua sposa Euridice Orfeo si è sceso nell'Ade e avendo incantato con i suoi canti Plutone e Core abbia ottenuto come dono il ritorno della sua sposa ma egli non poté godere della grazia di averla in vita avendo disobbedito agli ordini che riguardavano il suo ritorno Conone ha chiaro il mito creato da Onomacrito il mito nel quale Orfeo è colpevole perché ha accettato il patto col Dio dei morti non deve voltarsi perché se si volterà perderà Euridice per sempre ma la vera ira la vera autentica citazione che testimonia la morte di Euridice per mano di Orfeo viene da Platone viene dal simposio 149 di Platone è spietato dice al contrario cacciarono via dall'Ade Orfeo figlio di Agro senza aver raggiunto il fine per il quale era disceso nell'Ade mostrandogli la parvenza della donna per la quale era disceso senza tuttavia dare lei perché come citaredo sembrava loro che operasse mollemente incapace di morte per amore come Alcesti preoccupato soltanto di penetrare vivo nell'Ade la condanna platonica è senza riparo e la mollezza del poeta la vera colpevole della sua caduta non è degno Orfeo dell'amore non è degno di salvare Euridice perché è in quanto poeta incapace di dare in quanto poeta indifferente all'umano un'altra citazione di Pausania definisce alla fine con chiarezza quel che accadde in quell'istante della perdita da tanti dice Pausania è stato detto che essendogli morta la moglie per lei andò in orno in desprozia dove anticamente si evocavano le ombre credendo che l'anima di Euridice lo seguisse e avendola perduta nello stesso momento in cui si volse indietro per il dolore con le sue stesse mani si uccise Pausania è il primo a usare il verbo che definisce la colpa di Orfeo e per strafe si volto indietro e così è rimasto per noi Orfeo colui che in rilche è immagine del poeta che guardando la vita come Orfeo guarda Euridice la trasforma in non essere perché possa poi essere alla fine cantata nei versi scrivere comincia con lo sguardo di Orfeo disse Blanchot nel primo rigo del suo spazio letterario ma la seconda versione è confermata in maniera definitiva dal bassorilievo conservato nel museo archeologico di Napoli il bassorilievo Orfeo Euridice Ermes straordinario capolavoro dell'arte greca a sinistra c'è Euridice che tiene la mano di Orfeo ma nell'atto di abbandonarla si volge a destra si è già incamminata Orfeo è fermo la guarda la sua mano stenta a staccarsi dalla mano di Oridice la vede che si sta dissolvendo indifferente Ermes la prima figura a destra li guarda il doppio destino di Oridice la sua doppia fine è perfettamente sinottica con la doppia morte di Orfeo secondo la prima versione del mito che vede Orfeo cantore del mondo e del mondo olimpico la morte viene data al poeta da Dioniso ed essendo disceso all'ade a causa della sua donna e avendo visto come sono le cose di laggiù Orfeo cessò di onorare Dioniso mentre considerò massimo degli dei Apollo e svegliandosi di notte verso il mattino per prima cosa sul monte detto Pangaiun attendeva il sorgere del sole per vedere Elios perciò Dioniso adirato gli mandò contro le Bassaridi come sostiene Eschilo il poeta tragico queste lo sbranarono e dispersero le sue membra ogni parte del corpo separata dalle altre le muse poi raccolte le insieme le seppellirono nella città chiamata Libera perché Dioniso vuole la morte di Orfeo perché questa versione della morte di Orfeo è diffusa da quella parte della società ateniese contraria alla nuova religione Orfeca doveva morire per mano di Dioniso di Dioniso quell'Orfeo olimpico la seconda versione della morte di Orfeo invece ripropone una tradizione che assunto l'umano come il proprio di qualsiasi dottrina pretende che ad uccidere Orfeo sia Zeus ma perché viene ucciso in questo suo secondo morire Orfeo perché è chiaro che il nuovo poeta crea discorsi contro gli dèi non solo infatti rinfacciò loro furti e adulteri e servizi prestati presso gli uomini ma fabbricò anche favole contro di loro su divoramenti di figli e castrazione di padri e catene imposte a madri e molte trasgressioni delle leggi Orfeo perciò chiuse la sua vita sbranato ma per mano di Zeus la meraviglia di queste due rette parallele il poeta che ha creato un nuovo universo Orfeo padre di quella religione che sarà chiamata nel suo nome Orfismo ha come nemico Zeus e il mondo ateniese degli olimpici questo poeta è condannato per la sua capacità di cantare l'umanità anche degli dèi orfeo deve morire perché questo poeta sta creando un universo totalmente diverso da quello mitologico sta creando questo Orfeo un universo misterico un universo nuovo dove le pratiche della vita avranno un premio finale dove esiste una fede e non più una credenza dove il Dio il Dio salvatore che salva tutti gli uomini dalla morte è evidente è evidente in queste due morti il contrasto tra Eleusi centro dell'orfismo e Atene centro dell'antica religione olimpica l'autore dell'Orfeo umano con Euridice uno dei sette sapienti onomacrito colui che ha inventato la variante della catabasi negativa di Orfeo l'Orfeo che perde Euridice diviene così l'autore di una nuova teogonia volta a giustificare la nascita di un nuovo Dio dei Greci Dioniso onomacrito assume il nome di Orfeo lo fa autore dei suoi inni chiamati appunto Orfici e negli 86 testi della sua opera racconta la nascita delle nuove divinità a quell'Olimpo che durante la tirannide di Pisistrato è come se fosse messo tra parentesi data la vittoria del popolo sull'aristocrazia dei molti sui pochi in quel tempo che è davvero assegnato un momento decisivo della cultura occidentale furono eretti i grandi templi dell'acropoli la loggia delle Cariatidi il Partenone i Propilei furono poste le fondamenta della grande tradizione tragica dei Greci Eschilo nascerà ad Eleusi alla fine dei misteri venivano rappresentate ad Eleusi storie della vita di Dioniso Idromena che sono l'embrione della tragedia greca ecco in questo momento accade che un nuovo tempo è inventato accade che nel nome della poesia si crea la storia perché la poesia a creare il nuovo tempo storico e teologico vediamo insieme quali sono le caratteristiche dell'orfismo in questi versi tratti dagli inni orfici da Cronos che era senza età e il cui principio eterno nacque etere e terribile abisso da una parte e dall'altra si estese ed era senza limiti senza fondo e senza fondamento allora il grande Cronos fabbricò nell'etere divina un uovo d'argento e da questo nacque Protogonos il primo nato nessuno vide il primo nato con i suoi occhi se non la sacra notte e lei sola meraviglia poi prese tutti quanti quando in etere apparve ai loro sguardi una luce in attesa risplendeva allora il corpo dell'immortale Fanes il Dio che appare il primo Dio che guardando con due volte due occhi da una parte e dall'altra costruì una dimora eterna per gli dèi immortali e assegnò a tutti i viventi un luogo dove avrebbero abitato divisi dagli dèi creò il sole guardiano e gli impose di regnare su tutte le cose e le grandi opere della natura che sono stabili ed eterne e senza limiti poi pose tra le mani della notte il suo splendido scettro perché in lei ritornasse il potere regale questo poi è il nuovo Zeus questi è il principio e la fine questi è il nuovo Dio questi è Dioniso Dioniso che è il fondamento del tutto Dioniso che è insieme maschio e immortale fanciulla Dioniso che è il soffio di tutte le cose Signore del fuoco che non conosce fatica Dioniso che è il movimento Dioniso che è la radice del mare che è il sole Dioniso che è la luna Dioniso che è il re dalla folgore risplendente Dioniso che domina tutte le cose tutto ciò che era allora e tutto ciò che doveva venire ora e già in Dioniso tutte le cose come fruscelli sono confuse nel nuovo Dio ecco colui che vi ho dato come re ecco il Dio nuovo che per voi è nato e che salverà le vostre anime accade così seguendo questa nuova teogonia la mutazione di Dioniso in Dio orfico l'invenzione di Onomacrito ne mutò essenza e natura Dioniso non fu più il Dio del vino ma del vino che diventa sangue Theos Gyunaikos Dio delle donne Dio del parto Dio protettore di tutto ciò che è sacro ma soprattutto Theos Soter il Dio salvatore che riesce a risuscitare dai morti il fondatore dei misteri di Eleusi Leuangelon la buona notizia della salvezza la scrive Onomacrito con un nuovo mito che esprime tutto il senso della fede orfica il mito dei titani e dello smembramento di Dioniso perché come scrive Pausania nell'ottavo libro della sua Periegesi della Grecia i titani furono introdotti per la prima volta nella poesia da Omero Onomacrito prese da Omero il nome di titani e istituì i riti in onore di Dioniso facendo dei titani gli autori delle sofferenze del Dio Pausania intuisce perfettamente come i riti in onore di Dioniso dunque i misteri in onore di Dioniso siano strettamente connessi al mito dei titani e delle sofferenze e delle sofferenze di Dioniso chi ci ha consegnato il racconto di questo mito non certo un autore greco uno studioso del secondo secolo clemente clemente alessandrino che nel protrettico racconta da neocristiano la storia della morte di Dioniso per mano dei titani dice clemente alessandrino i misteri di Dioniso sono infatti assolutamente inumani intorno a lui ancora fanciullo si agitano in una danza armata i cureti ma i titani si insinuano con astuzia dopo di averlo ingannato con giocattoli fanciulleschi ecco che i titani lo sbranarono sebbene fosse ancora un bambino come dice il poeta dell'iniziazione Orfeo il tragio e non è inutile menzionarvi come oggetto di biasimo i simboli di questa iniziazione la stragalo la palla la trottola le mele il giocattolo rotante e rombante lo specchio il vello i misteri i misteri che si fondano sugli oggetti questi oggetti che diventano elementi importanti dei misteri cosa sta facendo Dioniso Dioniso è un bambino che sta giocando con i suoi giochi alla trottola alle bambole peghevoli le mele delle speriti alla palla e soprattutto a uno specchio quello specchio che Proclo neoplatonico nel commento altimeo di Platone sottolinea essenziale per capire il momento in cui Dioniso comincia a morire dice Proclo e anticamente lo specchio è stato tramandato dai teologi come simbolo dell'adeguatezza alla perfezione intuitiva dell'universo perciò dicono altresì che Efesto fece uno specchio per Dioniso e il Dio guardandovi dentro e contemblando la propria immagine si gettò a creare tutta la pluralità e nonno nelle Dionisiache continua con spada orrenda i titani uccisero Dioniso che fissamente guardava l'immagine nello specchio straniante tutto è complesso in questi testi Giorgio Colli ne ha dato un'interpretazione straordinaria nella sua ultima filosofia a lui dobbiamo la scoperta di gran parte di questo groviglio di pensieri si sta specchiando Dioniso dopo avere giocato con trottola mele bambole ma ma lo specchio riflette se stesso lo specchio sta riflettendo il Dio che crea sta riflettendo il mondo mentre lui stesso lo sta creando e Dioniso vede nello specchio se stesso creatore come sfuggire all'incanto della visione di ciò che Dio stesso crea ed è in quel momento di distrazione che i titani con spada orrenda lo uccidono lo fanno a pezzi Dioniso permane nella sua morte ma l'antico nuovo Zeus lo Zeus degli orfici fulmina i titani diventano cenere ma da questa cenere risorge l'anima di Dioniso stesso che diventa appunto il Dio che risorge dalle proprie ceneri ma per gli orfici questo mito significa altro che ci interessa tutti ancora oggi c'è in noi un'anima titanica è un'anima orfica l'anima titanica produce il male l'anima titanica è contro il sacro l'anima titanica odia tutto ciò che è bene c'è un'anima dionisiaca in noi quella che intuì perfettamente dice l'anima della vita l'anima della creazione l'anima universale che vuole dare soltanto frutto questa è l'anima che vince e che salva perché noi ci salviamo solo se abbiamo Dioniso dentro di noi e se rifiutiamo la parte titanica che è in noi e che cosa avremo in cambio per la prima volta l'orfismo per la prima volta il dio nuovo creato da Orfeo propone il paradiso il giardino felice dove coloro i quali seguiranno l'anima dionisiaca si salveranno e avranno la luce eterna e propone anche un luogo di oscurità e di morte un luogo infernale dove andranno tutti coloro i quali seguiranno la loro anima titanica dunque per la prima volta nella storia dell'umanità nasce una religione che produce una dimensione morale fondata sul sacro e sul divino se opererai il bene dioniso ti salverà se opererai il male dioniso ti dannerà è una delle più importanti forme di partecipazione individuale alla salvezza fu allora partecipare ai misteri eleusini iniziarsi ai misteri di dioniso diventare dionisiaci questo accadeva ad eleusi in un giorno nel quale i giovani gli anziani le donne venivano invitati a conoscere il principio di tutte le cose a scoprire qual era il vero mistero della vita qual era l'archè perché poi alla fine fosse facile la via della salvezza e ad eleusi ora con grande particolare gioia interiore accostiamoci una festa dell'entrata nell'oscurità così era definita la festa dei misteri di eleusi entrare nell'oscurità e trovare la luce ma tutto è nel nome misteria sono detti misteri perché la radice è il verbo miuein e significa stringere le labbra e non parlare nei misteri è contenuto to arreton il non rivelabile perché di ogni mistero nel suo verbo è fondante il silenzio la bocca chiusa nessuno doveva dire fuori dalla cerimonia quello che aveva visto pena la dannazione felice colui che giunge sotterra dopo che ha visto tali cose conosce il fine della vita conosce il principio dato da Dio questo è un frammento di Pindaro che bene fa intendere il senso altissimo di questo momento assoluto che per noi ha significato la nascita di un nuovo universo interiore che cosa accadeva durante i misteri seguiamo uno degli iniziati seguiamo un giovane perché non esisteva la folla degli iniziati ogni iniziato era un individuo da condurre nel cuore del Dio dunque la processione iniziava da Atene si muovevano tutti con carri gli iniziati si fermavano dinanzi al tempio venivano accompagnati sulla riva del mare venivano spogliati e immersi tra le onde ne uscivano venivano vestiti di un bianchissimo abito dinanzi al tempio ora si preparava il ciceone una bevanda già citata nell'inno a Demetra di Omero una bevanda che si otteneva mettendo insieme acqua farina d'orzo e menta un leggero allucinogeno bastava questo per creare una condizione di distacco dalla vita che si era prima vissuta in relazione alla vita che si stava cominciando a vivere il secondo atto era davvero straordinariamente pericoloso venivano incappucciati nessuno poteva più vedere si erano immersi nell'oscurità si cominciava ad avvertire l'ansia della notte il pericolo dell'ignoto una sorta di prossimità al divino che turbava le coordinate poco a poco nella mente si scomponevano soltanto allora veniva aperta la porta del tempio gli iniziati erano presi tutti per ma si accendevano fiaccole luminosissime i canti la musica di cembali una musica che dava vertigini confondeva la folla che correva intorno al tempio fino a stancarsi fino a perdere la sensazione di sé tra cori luci suoni il miostes arrivava dinanzi all'altare miostes radice della parola mistico perché mistica era questa esperienza miostes assai simile al verbo miuein che indicava l'aprirsi dei fiori dunque misteria che significava silenzio su ciò che era necessario mantenere sacro miuein stringere le labbra nel silenzio e miuein nello stesso tempo l'aprirsi dell'anima come si aprono i fiori dinanzi alla luce tra miuein chiudere la bocca e miuein aprirsi dei fiori la differenza è soltanto un accento un accento il mie stesso è dinanzi alla porta della vita da lontano si vede arrivare qualcuno vestito con grande semplicità qualcuno che doveva essere puro era il sacerdote che era chiamato ierofante colui che portava le cose sacre si avvicinava lo ierofante al mistis e accadeva lì qualcosa di misterioso sempre clemente alessandrino che aveva raccontato per deridere il mito dei titani ci consegna la formula rituale che recitava lo ierofante nel momento in cui si appressava agli iniziandi ai mistis ho digiunato ho bevuto il ciceone ho preso dalla cesta ho maneggiato ho riposto nel canestro dal canestro nella cesta che significa questo rituale facile e comprenderlo dalle ulteriori rivelazioni di molti padri della chiesa accadeva questo lo ierofante portava una cesta era normalmente di bronzo dentro c'era qualcosa si avvicinava al mistis e gli toglieva il cappuccio sicché il mistis si trovava dinanzi all'arche si trovava dinanzi al momento in cui avrebbe compreso ogni cosa in cui si sarebbe rivelata la verità il sacerdote ierofante lo invitava a prendere l'oggetto contenuto nella cesta non avrebbe mai dovuto dire che cosa era quel che aveva tra le mani per sempre guardando vedeva il principio di tutte le cose la radice stessa della vita la sorgente da cui prorompeva la vita era la riproduzione di una vulva era la perfetta riproduzione dell'organo sessuale femminile era il ventre materno era Demetra che appaliva insieme a Dioniso Demetra ventre del mondo Dioniso dio del parto delle partorienti e della sacralità del ventre nel silenzio il mio stesso riponeva nella cesta l'oggetto e per sempre comprendeva che il mistero è soltanto il ventre materno perché come è sacro il sangue del parto Dioniso così è sacro il ventre che nella terra la sua metafora perfetta in quel momento come dice Aristotele nel Perifilosofias avveniva l'illuminazione l'iniziato identificava se stesso a Dioniso la sua anima a questo cammino di vita e l'intuizione del puro dell'intuibile del santo che a un certo punto lampeggia attraverso l'anima del miustis come un fulmine e quelli che hanno toccato questa verità pura sanno che nell'anima ormai è contenuto e saputo il fine primo e ultimo di tutte le cose questa conoscenza non è comunicabile rimane nel silenzio dell'anima perché come una luce che scaturisca da una fiamma palpitante una volta sorta nell'anima è lei stessa a nutrire se stessa è posseduto dalla luce il mio stessa non era più il giovane o la donna che era entrata nel tempio poco tempo prima illuminati avevano conosciuto il principio Dioniso e Demetra erano gli dèi della vita ma non è questo l'ultimo grado della iniziazione misterica quello di cui abbiamo parlato sono i piccoli misteri perché c'era un'altra dimensione da scoprire e veniva scoperta nei grandi misteri Dionisiaci erano ammessi a questi misteri coloro che desideravano comprendere l'assoluto si chiamavano epoptai coloro i quali vedono una seconda volta il processo era simile cambiava la fine lo ierofante per gli epoptai arrivava dal fondo del tempio mostrando qualcosa che noi ogni domenica vediamo nelle nostre messe la spiga di grano mietuta in silenzio una spiga il pane il frutto dei frutti questa spiga è il dio che si fa pane i due dei si compongono e nel silenzio tutto è accaduto Dioniso generato da Orfeo facilmente poi diventa l'alter ego di Cristo quando gli apostoli giunsero a Roma trovarono un popolo che aveva come religione ufficiale l'orfismo il popolo di Roma non si meravigliò di fronte a queste novità che venivano dalla Palestina sapevano già che esisteva per loro un dio soter salvatore che risuscitando dai morti liberava dal peccato sapevano già che una vita dionisiaca e ora cristiana avrebbe avuto una ricompensa in un paradiso futuro e una condanna in un prossimo oscuro luogo di pena e di sofferenza abbracciarono abbracciarono come propria la nuova religione e quando nel 391 dopo Cristo fu assunto il cristianesimo come credo di stato ecco orfeo divenne il buon pastore del mosaico e tioniso divenne il fratello del crocefisso o il suo nome secondo perché il suo sangue divenne il sangue versato dal Dio cristiano la sua identità il suo essere agnello sacrificale fu facilmente assimilato al Cristo salvatore quando Otto Kern scoprì nei primi anni del novecento che la stessa cerimonia di Eleusi veniva vissuta in un paese della Grecia da misticissimi sacerdoti cristiani ecco scoprì che come disse Hölderlin in un suo inno il pane e il vino sono i due elementi che nel nostro tempo cristiano dobbiamo a Eleusi a Dono Macrito agli scrittori le radici di quello che noi siamo oggi in quanto cristiani sono da collegare soprattutto e sostanzialmente alla nostra radice greca il mistero è questo ma è comunque bellissimo immaginare che Orfeo sia il buon pastore ed è altrettanto bello immaginare che ai piedi della croce ci sia colui che fu definito il dio delle donne il dio del parto il nuovo dio che dona la salvezza Grazie.